per dirvi da quanto non usava una moto su tutta la moto ci sono le ragnatele ciao vecchio ma che bel casco che hai vecchio ma sai che me l'ha riccavato uno youtuber strafamoso ma dai che bello sai che a me me l'ha fatto solo vedere no sin scherzo quante persone ci vogliono per mettere una gopro guidi così raga fa cagare queste inquadrature ha 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 Ma tu lo sai cosa vuol dire abitare in centro? Ciao Casco nuovo Ma è l'incarbonio Hai visto che roba? Ti avevo già visto in centro Aveva anche parlato Madonna che privilegio che deve essere stato Stai registrando? Si Ciao Sto facendo un cosa vuol dire abitare in centro Il numero? Boh Ehi la Stai a posto No tu no Scherzo io Ora vai che è una salsiccia Vuoi fare una foto? No voglio solo cercarti Ah ok Cerca Edoardo Iannone Dammi qua il casco Se ti specchi di nuovo Si va forte ma Cosa guardavi? Io niente Spiegate perché vi hanno fermato qua quella volta No ma bravi perché sta facendo una qualsiasi bus Boh ma se vuoi ripassiamo E capiamo insieme Esatto C'è io posso fare una foto? Questa foto è profonda No ho sbagliato Avresti per caso una forbice? Grazie mille Posso poi andare col banco? Grazie Ciao Babi Ciao cari Guarda te che bello che sei Bellissima questa moto Non l'avevi mai vista? È bellissima È un po' impolverata C'è ancora un ragno qua Mi è arrivata la GoPro Hero 10 Ti viene tipo il borsellino da Tracker? Sembra la stessa della scuola Sì Minchia figa bianca È la carta Ah ok Sono le 10 e 38 comunque Io vorrei mangiarmi uno yogurt però Yogurt Ma dove cazzo sei? Dai I guanti ecco che l'ho dimenticato Senti io non so come convincere mia madre a farmi sto cazzo di moto Prenditi la bici Ciao Mike Guarda oggi testerai La Hero 10 Voglio No quella purtroppo l'ho comprata io Vabbè ma te c'hai il business Hai visto? Cosa? Olio extravergine Come me Ti sei già fermato per questo? Sì Non sei No Vecchio Hai dimmi la notizia Vecchio Tu che guardi la Formula 1 e la MotoGP Con NordVPN puoi connetterti alla RSI Che è la Rai Svizzera E puoi guardarti la MotoGP e la Formula 1 Gratis con NordVPN Non solo quello ma se vuoi guardarti le serie che non puoi guardare in Italia Tac Sposti il server a Giappone e ti guardi le serie giapponesi Vecchio Allucinante Tac Vedi? Tac Quick Connect Tac Ed è connesso E se noi vogliamo andare in Svizzera Guarda sono tutti displayati qui sullo schermo Ma te lo puoi scegliere te? Sì vecchio Tac Zurigo Switch to Zurigo Tac E così puoi andare guardate la Formula 1 Vecchio che figo è In più tra l'altro se io faccio così Cambia il secondo Anche tu Mike scaricati NordVPN guarda che figo Tac Cambia Figo Sei contento Vecchio? Sì contentissimo Scaricati il codice sconto in più hai un mese gratis Vecchio è come Rurock solo che ti protegge online Scaricatevi il codice sconto NordVPN slash film E via Guarda che bello che è Caro Ciao piccino Ciao piccino Patato Ciao piccino Ciao patato Lo dovrei svegliare e lo portarlo fuori al passo Siamo usciti un attimo dal centro Facciamo un giretto e poi torniamo lì Che cazzo ti fatti? Ti do la GoPro Prenditi il dadino No non serve Vabbè vaffanculo la GoPro Madonna sembri un motovlogger Questa cazzo da Quindi non posso essere così Che belli quegli occhiali Hai visto che stile? Che bello Volevo farti una clip mentre la guardavi Dicevi cosa ne pensavi Ah ok va bene Sì io la metto qua in mezzo ai coglioni Bella Allora sì dove vuoi chi ti mette la mia? Niente di specchietti hai No devo montarli ma non so come si fa Phil adesso mi devi insegnare qua come si fa a fare la GoPro col microfono Dove hai messo il microfono te? Non c'è il microfono E come parli? Cioè tu non dici niente? In movimento non vloghi No non parlo mai No che delle volte non ti prendi un microfono Che delle volte non fai qualcosa di fatta bene No vabbè Mezzo milione di visual a video Un fatti di merda Ottimo Vai Prova Prova Alto volume urlo Ok sì E questa qua andava sul rosso Più o meno Non andava tanto sul rosso però E se faccio così? Aiuto ha paura Fresco Bella giacchetta leggera Chiudi da bene Che non passi aria Conosci il bar Tucci? Non bevo ma mangio Lì non penso facciano da mangiare Quindi fa niente Bevo acqua gasata È buonissima Vuoi che le scambiamo già qua? Quindi tu proverai la mia per la prima volta Io proverò la tua per la prima volta Che bello Scusate L'abbiamo messa un po' in mezzo Ehm Potrai come un passo Occhio al bicipite Non è il bicipite Questo è un polpaccio Il polpaccio Oh che figo Vuoi fare in strada te? Non ho capito Vuoi fare in strada te? No no Grazie a portarlo Veramente figa Bellissimo Sono contentissimo Questa com'è? Beh è Ha una seconda da panico Bello sono contento Dio Non hai visto che c'è la pedalina qua E se mi facevo male Porca miseria Uscirà un video anche nel suo canale Ma probabilmente fra i 6-7 mesi 8-10 Sì 7 anni ormai Ma quando mai Ma Danny sta per? No no mi chiamo proprio così Ah Danny Danny Ah ok Sta per Daniele Tanti mi chiamo per il culo Mi chiamano Daniele Va bene Daniele Allora buona giornata Ciao Gustavo Gustavo Va bene Dai mi hai rotti i coglioni Vai fuori dalle palle Andiamo me ne vado Buon Marcello Ci vediamo Ciao Ciao Daniel 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 A meglio Daniel Tendriamo papà e figlio Io sono il figlio Ciao Grazie a tutti.